Rocky! Pronto, Franchi Peppo, prego. Ora, quando torna che chiami il numero, ha una matita? 47339. Beh, domande di Rocky, gli dica che se mi vuole ancora parlare, sono disposto ad ascoltarlo. Sì. Non sai quanto sono contento di vederti, Rocky? Sì, sì, andami qua. I vecchi amici sono quasi tutti andati. Rocky. Fido, morto in una rapina. Sammy, sconta trent'anni. E corto, il greco, sfracellato in un camion carico di refuttiva. Senti, metti un poco più di selsi in questa fare. Certo, certo, sì, Rocky, certo. E' Frenci, condannato a vita. Te lo rammenti, Frenci? E' Luparish. Finito sulla sedia. E così Tony e Willy Esposite. Già. C'è un silenzio qui certe sere che senti il gelato che si squiglia. Ma ce ne sarebbe anche di più di silenzio se tu chiudessi il becco. Come in prigione, vuoi dire? O in una tomba anche? Ma io non sono che un gelataio, che ne so io? Niente. Soltanto che il mondo non è poi diverso dal mio negozio, sai? Uno entra, si siede al banco e chiede un gelato. Gli do il gelato e lui se lo ingoia. Gli dico quant'è e lo deve pagare. Di fuori è lo stesso. Chi vuole un gelato deve essere disposto a pagarlo. Se commetti uno sbaglio devi essere pronto a scontarlo. Questa è la verità, capisci? Ma a molti non gli ci entra in testa. Sputano fuoco al momento di pagare. Io perché gridano? Per cosa? Per il gelato. Ecco perché cosa. Non puoi averlo il gelato se poi non sei pronto a pagarlo. Rocchi. Se cercassero di me, digli che richiamo io. Dove vai ora, Rocchi? No. 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 No.